Iniziamo con il disossare il nostro capicollo. Non sono una macellaia, quindi non me ne vogliate se lo faccio a modo mio. Andiamo a togliere prima tutta la parte di questa qua dove c'è tutto l'osso. Andiamo a togliere! la parte dell'osso questa qua poi la utilizzeremo per fare un sugo o qualcosa lo mettiamo da parte adesso prendiamo il nostro pezzo di carne e lo dobbiamo andare a pulire se ci sta qualche ossicino e andare a togliere del grasso in eccesso quindi dobbiamo ottenere un bel pezzo di capocollo andiamo a rifilare questa parte naturalmente con questo qua possiamo andare a fare qualsiasi cosa possiamo utilizzarlo anche per fare del bollito adesso lo andiamo ad aggiustare quindi a togliere se c'è qualche cosa in più tipo questo pezzo perfetto e il nostro capocollo è pronto per essere passato nel sale adesso io continuo a fare tutti gli altri perché ne ho un bel po' da fare dopo averli disossati tutti sono nove in tutto adesso dobbiamo andare a preparare un mix di sale e di spezie sopra un voglio vado a mettere il sale marino quello grosso non c'è una quantità dovete fare ad occhio poi mettere del pepe nero in grani del pepe quattro stagioni sempre in grani però lo dovete frandumare e del peperongino a piacere ne metterò giusto un po' adesso mettiamo all'oro delle foglie di alloro lo spezzettiamo in questo modo l'alloro è già secco e adesso andiamo a mescolare il tutto adesso prendiamo la nostra coppa o capocollo e andiamo a massaggiare il sale su tutte le parti in questo modo dovete fare tante 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 carezze in questo modo lo riponiamo dentro una vasca o dentro una ciotola capiente facciamo la stessa cosa con gli altri tappocolli ecco questo è il risultato finale dopo aver passato su tutti i capicolli il sale con le spezie adesso li dobbiamo lasciare dentro la vasca o dentro la ciotola per 48 ore dopo qualche ora la carne inizierà a rilasciare dell'acqua quindi voi dovete prendere questa acqua e massaggiarla su tutta la carne e dopo di che dovete prendere il capocollo e capovolgerlo ma comunque vi farò vedere durante il percorso dopo 12 ore come potete vedere ha fatto la carne rilasciato l'acqua adesso li dobbiamo massaggiare in questo modo quindi ci mettiamo i guanti e andiamo a massaggiare tutta la carne se non trovate il sale marino quello grosso potete utilizzare anche il sale di casa quello fino e ne utilizzerete 40 grammi ogni chilo di carne un'altra premessa che faccio se la carne tutto il pezzo pesa fino a 2,5 kg lo tenete dentro la cassetta per 24 ore fino a 24 ore se invece supera i 2,5 kg lo dovete tenere dentro la cassetta per 48 ore quindi andiamo a massaggiare per bene questa operazione la dovete fare la mattina e la sera due volte al giorno sono trascorse 48 ore adesso dobbiamo andare a togliere tutta l'acqua che si è formata e andare ad aggiungere il vino mi raccomando tutto questo procedimento il vino deve essere fatto al fresco nel senso che la carne deve essere messa al fresco in un luogo fresco e asciutto prima di andare a mettere il vino dobbiamo prendere dei rametti di rosmarino togliere gli aghi in questo modo e strofinarla per bene su tutta la superficie della carne da insaporire per bene tutti i lati e li lasciamo di sopra in questo modo bene arrivati a questo punto possiamo andare a mettere il vino bianco il vino serve per andare a lavare la carne e in pratica si deve coprire tutta con il vino in questo caso io ne ho messi 5 litri in questo modo adesso deve rimanere così per almeno due ore due ore e mezzo sono trascorse due ore e mezzo da quando li abbiamo messi in ammollo con il vino adesso li dobbiamo tirare fuori asciugare e appendere sempre in un luogo fresco e asciutto prendiamo della carta assorbente andiamo ad adagiare la nostra carne e con dell'altra carta andiamo ad asciugare adesso dobbiamo prendere o dello spago o un laccio come questo e dobbiamo andare a legare il capocollo in questo modo stringiamo bene e lo andiamo ad appendere dopo averli appesi in questo modo li dobbiamo lasciare così fino a quando si asciugano un pochetto sono trascorse 24 ore da quando li abbiamo appesi i capicolli adesso ci dobbiamo procurare del budello sintetico come questo oppure se riuscite a trovare quello fresco va bene lo stesso poi ci servirà un tubo questo qua che usano gli idraulici dove dobbiamo andare a mettere la rete questa qua per insaccare i salumi e dopodiché ci servirà una baginella con dell'acqua fredda prendiamo i fogli di budello e li mettiamo in ammollo nell'acqua fredda in questo modo e li facciamo ammorbidire dopo 24 ore il capicollo si presenta in questo modo adesso vi faccio vedere come inserire e come metterlo nel budello sul piano da lavoro andiamo a mettere il budello idratato lo allarghiamo per bene in questo modo adesso vado a mettere il capocollo questa parte la dobbiamo mettere all'interno in questo modo anche la parte finale di questa qua così e andiamo ad arrotolare mi raccomando fembre tutto all'interno in questo modo adesso dobbiamo prendere il tubo con la rete qui ho fatto il nodo e adesso andiamo a inserirlo dentro andiamo a legare l'altra estremità facciamo un nodo perché poi dobbiamo andare a mettere questo aggeggino che non mi ricordo come si chiama per andarli a pendere adesso con le mani andiamo a dare una forma più o meno perfetta in questo modo e con uno stuzzicadenti andiamo a bucare tutto tutto il capicollo e il primo capocollo è pronto per essere appeso per essere asciugato dopo averli fatti tutti li ho nuovamente appesi mi raccomando sempre in un luogo fresco e asciutto e adesso li lasciamo così fino a quando loro si asciugano l'unica cosa che dovete fare è che ogni giorno li dovete capovolgere quindi se in questo momento sono appesi in questo modo il giorno seguente li dovete appendere dalla parte di sotto questa operazione dovrà essere fatta per dieci giorni dopodiché li potete lasciare tranquillamente ad asciugare da soli un'altra cosa che vi ricordo è che sia il capicollo che la salsiccia il salame devono essere fatti nei periodi in cui fa freddo quindi nel periodo di metà novembre dicembre gennaio sono trascorsi un mese e mezzo da quando li abbiamo appesi adesso sono pronti per essere messi sotto vuoto vi faccio vedere l'interno se si forma la muffa in superficie è normale basta prendere poi un fazzoletto e andare a togliere la muffa che si è creata questo lo andrò a tagliare in tre parti qui Ed ecco come si presenta il capicollo. E' un po' di un po' di un po' di uno. per la conservazione li andrò a mettere dentro i sacchetti del sottovuoto ed ecco qui e i capicolli sono belli pronti per essere messi in frigorifero se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete inoltre vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete restare aggiornati su tutti i video che andrò a pubblicare durante la settimana vi invito a iscrivervi al mio gruppo facebook Dolce e Sapore di Denise e di seguirmi su mio instagram vi metto sotto nell'info box i link un bacione grande e alla prossima video ricetta un bacione grande e alla prossima